Realizzati nuovi impianti di illuminazione a led nei sottovia veicolari di Viale Oxford e Via Ritorbergata, proseguono i lavori di adeguamento alle normative vigente degli impianti di illuminazione nelle gallerie per migliorare la visibilità e garantire maggiore sicurezza per le automobilisti. A Roma arrivano nuove ciclabili, le nuove piste collegheranno Lungotevere Testaccio a Bocca della Verità, Viale delle Milizie a Lungotevere delle Armi, il tunnel di Santa Bibiana alla stazione Tiburtina, Piazzale Ostiense a Via dei Cerchi. Con queste nuove ciclabili verranno ampliati i collegamenti per chi sceglie di muoversi in bici. È in corso il progetto Metropoli Resiliente, oltre 20 appuntamenti tra agosto e settembre per giovanissimi alla scoperta del patrimonio naturale della città. Un ricco programma di incontri gratuiti con la natura, l'astronomia, l'arte, la lettura e il teatro, in biblioteche e musei civici, teatri, giardini, ville e parchi di Roma.